Con la suola poi dietro di nuovo per i due Cinelli, c'è Ciaia che chiede palla, è tutto libero sulla tre quarti, lo servono adesso Ciaia contro Bisoli, prova ad accentrarsi tutto a destro, ancora Cinelli con il destro, palla alta sopra la traversa il Novara, questa volta con il destro da parte di Colpo di Tessna, quella di Galabinov, ci riprova allora Camara, Casarini, Ciaia riesce ad allargare sulla sinistra, Calderoni, Novara che adesso sta stabilmente nella tre quarti del Brescia. Ciaia, attaccato da Camara, c'è una trattenuta di Cerapuano. Città per andare eventualmente con la pallone in uscita sull'uno contro uno, attenzione, palla dentro di Calderoni, sul secondo palo, il colpo di testa. Il contatto visivo con il pallone non approfitta Mantovani, poi Pinzi però, con un fallo, e allora il fischio è per Casarini, per il Novara, dove c'è Galabinov. Poi Camara, non perfetto, in un secondo momento riesce a tornare sul pallone, evitando Ciaia, attenzione ancora Camara. C'era Calabresi che è arrivato in anticipo, attenzione alla... Ciaia. C'è Macheda sulla sua verticale, Ciaia tiene palla, Bisoli gliela soffia. Con un fallo però, spinta su Ciaia, che rimane anche a terra, rivediamo. Una manata da parte di Bittinelli, va a coprirsi il volto, adesso poi rivedremo. Intanto Galabinov con un gran numero, va direttamente al rinvio. Doppio passo di Ciaia, riesce a evitare Camara. Poi si trascina però il pallone in Caldeeda. Ciaia prova ad andare via, Pinzi, Galabinov vuole girarsi. Poi Mantovani esce in copertura su Ferrante. Alla fine qui Ciaia. Prosegue a toccare ma c'è Ciaia. Largo il pallone per Dickman. Cinelli e Calderoni. Ciaia. Prolungare per Malle verso Crociata. Recupera molto bene Cinelli. Poi Ciaia, Casarini, Chiosa. Colpo di testa e di Blanchard. Poi è recupero palla perfetto da parte di Ciaia. Attenzione va lui, doppio passo. Ciaia con sinistro. Chiude il proprio angolo, molto bene Minelli. Primo acuto di Mutito. Ferrante qui cerca l'appoggio. Arriva su di lui deciso ma pulito Mantovani. Secondo Rappuano. Rimane giù Ferrante, si continua a giocare. Pazza, Calabresi su di lui a chiudere. Ciaia riesce ad arpionare. Un pallone molto difficile. Poi sbaglia però il... Ciaia dalla bandierina. Con la suola per Casarini. Palla dentro. Passa alla fine. Camara pulisce la propria area. Poi Mantovani cerca Macheda. La chiusura. Cinelli a prolungare. Poi Troest. Cinelli di prima intenzione per Ciaia. Che tocca il pallone. Lo riceve di ritorno da Macheda. Poi su di lui Bisoli senza... Daverickman. Che poi cerca Galabino ma non lo trova per la chiusura di Blanchard. Sbaglia però l'appoggio Blanchard. Allora c'è Ia. Può ricominciare per il Novara. C'è Galabino, va a farsi vedere. Ecco che riceve. Blanchard con la punta del piede anticipa il buco. Cinque giornate fa contro il Cesena. Dopo il vantaggio di Schiavone, Galabino... Il colpo di testa di Coli ne ha avute. Altra respinta, altro muro da parte del Brescia. Martinelli qui cerca un numero, non lo trova. Regala di nuovo una... Sansone che questa volta... La pressione di Ferrante. Casarini tiene palla. Trova lo scarico largo per Ciaia. Poi Sansone. Pallone largo per Ciaia che ormai sta stabilmente sulla parte sinistra del campo. Tre giochi di suola. Alderoni dall'altra parte. Sulla sua verticale c'è Ciaia. Lui preferisce andare da Galabinov. Con la suola e una giravolta riesce a servire proprio Ciaia. Prova ad andare in velocità su Camara. Ciaia tiene palla. La fine se la trascina sul fondo. In effetti era piuttosto complicato pensare di togliere eventualmente un altro centrocampista o addirittura un altro difensore.